Vedete? Questo, come ci insegna la Bibbia, è una delle forme sotto cui si manifesta Dio, perché la Bibbia ci insegna che Dio può essere cane, può essere porco, può essere bastardo, può essere infame, può essere lurido, può essere pederasta, può manifestarsi sotto qualunque forma Dio-cane, perché porco di quella madonna sporca, Dio bastardo, deve fare bel tempo tutta la settimana e il venerdì che dici, boh, ce la siamo sfangata, ce la siamo tolta dai coglioni, no, Dio-cane deve nevicare, porco Dio, deve rompere i coglioni, perché puttana merda, io dovrei fermarmi con il camion a montare le catene, ma Dio-cane voglio morire da martire, porco Dio, perché io la neve la sciolgo a bestemmie e riesco a viaggiare tranquillo e beato, perché le catene io non le monto, Dio-cane, le catene le usavano i romani per dargliele nella schiena a quel bastardo, porco Dio, sulla via Crucis, puttana merda, guarda te che giornata del cazzo, della madonna schifosa, zio-cane, meno sei e nevica, cazzo vuoi di più, zio-cane, poi uno non deve bestemmiare, è la vita che ti porta a bestemmiare, è la vita, zio-cane, di ogni giorno, vada che merda, Dio porco, madonna vada, madonna.